Una famiglia che qui è conosciutissima, che è sempre anche stata molto disponibile nei confronti del paese e delle comunità e che comunque forniva un servizio, quello del collegamento fra le due sponde, in questo momento essenziale. Fossalta di Piave, assieme alle comunità di Noventa, Musile, ma anche di Maserada, dove la famiglia Zamunera è molto conosciuta, sono profondamente scosse da quanto accaduto a Gianfranco, una famiglia storica del paese legata da sempre al grande fiume che dal peralba scende al mare attraversando la marca. Ed il veneziano, un legame che proprio nel giorno nel quale ricorre il 61esimo anniversario della tragedia del Vajont, si arricchisce di una coincidenza singolare, fu proprio Walter Zamunera, cugino di Gianfranco, a notare il giorno successivo al disastro una sagoma di legno trasportata a valle dalla corrente del Piave. era la statua mutilata della Madonna della chiesa di Longarone. Lui si attivò, la recuperò, la madonniera rimase qui a Fossalta per del tempo e poi fu restituita al paese degli Longarone. Da allora Fossalta e Longarone sono unite da una sorta di gemellaggio, proprio grazie al ritrovamento e al salvataggio, letteralmente al salvataggio di questa madonnina che è venuta anche più volte in pellegrinaggio qui a Fossalta. Questo che ci fa così rimanere ancora più scioccati, più allibiti rispetto alla tragedia che è successa, quindi alla quale non riusciamo a darci una risposta.